Uniti è più bello. Potrebbe già diventare uno slogan, al momento è solo la chiosa del post firmato su Facebook dal sindaco uscente di San Donato, Alessandro Quarta, che benedice ufficialmente il nuovo accordo politico siglato in vista delle prossime elezioni amministrative di metà maggio. È tempo di essere uniti, afferma Quarta, è tempo di dimenticare le divisioni, è tempo di essere liberi. Sogna una città forte, coesa, unita, dove tutti diventano l'uno e l'uno diventa tutti. Una città proiettata al futuro con tanti giovani, dove la comunità diventa unica, protagonista con i suoi uomini e le sue donne, con le sue risorse e le sue grandi potenzialità. Ripartiamo dall'esempio degli anni difficili del Covid, quando la collaborazione fattiva tra forze politiche diverse e antagoniste ha dato ottimi risultati per la città tutta. Ha preso forma e sempre più crescerà una proposta politica nuova, che guarda il futuro con slancio e tanta attenzione. Grazie al gruppo politico Libertà e a tutti i suoi consiglieri, grazie al gruppo politico La Città di Tutti, ai miei consiglieri, assessore e presidente del Consiglio Comunale, grazie a tutti i cittadini che hanno creduto e che condivideranno questo progetto per la città. Al fianco del sindaco parte della sua maggioranza, come Luca Perrone, Federica De Blasi e Ilenia Taurino, il gruppo Libertà ha l'opposizione in questa consigliatura, il socialista Riccardo Pellegrino, figlio dell'ex consigliere regionale Donato, in corsa con azione, alcune liste civiche di estrazione di centrodestra e il movimento Regione Salento del consigliere regionale Pagliaro. Un'operazione politica che ha sparigliato le carte, lasciando di sasso i vecchi alleati dei DEM. Una vittoria comunque a metà per quarta perché è andato a vuoto il tentativo di formare un'unica lista. Il PD infatti ha respinto al mittente le avanze del sindaco ed è pronto ora ad allargare il campo alle altre forze democratiche per cercare di individuare un nuovo candidato sindaco e offrire un'alternanza agli elettori. Non condividiamo questo percorso, ha spiegato la consigliera comunale Anna Rita Perrone, perché è realizzato con un gruppo che ha sempre contestato l'azione amministrativa e perché abbiamo una visione assolutamente differente rispetto alla gestione della cosa pubblica. Non potevamo accettare questa operazione per la nostra storia e la nostra dignità politica. Della partita faranno parte certamente il vice sindaco DEM Massimo Longo e il consigliere Salvatore Tanieli, già fuoriusciti dalla maggioranza targata quarta. Insomma la sfida lanciata dopo lo scossone di quarta si attende ora la risposta di DEM.